Ciro ci ha tatuato l'ultima Coppa Italia, quella là che vincemmo contro la Juve ai rigori. Vincere contro la Juve non è mai facile, soprattutto quando ci sono i rigori in mezzo. Adesso guardate qua, Ciro sta lasciando un po' di spazio per un altro tatuaggio e non diciamo niente che cosa ci mette, magari ci puoi mettere una pizza, una rancina. E io non lo voglio dire, io sto scuando avanti. No, prima che moro voglio prendere gli altri scudetti. Ci vediamo prossimamente. A maggio, fine maggio. Forza Napoli. Tranquillo, puntiamo i piedi a terra e aspettiamo a maggio. Vai, non ce l'è per nessuno quest'anno, non c'è niente da fare. Speriamo che come dite voi, io me lo auguro, me lo auguro anch'io. Speriamo che come dite voi. Al nord, sui giornali dicono che il Napoli non è la squadra adatta per vincere la docenza. Al nord, al nord, al nord. Lei domenica sera la partita l'ha vista contro la Roma? Eh. E mi racconta che cosa ha fatto dopo il gollo di Osimena? Sono saltato in aria. Siccome il soffitto è basso, ci sono andato a sbattere proprio come adesso. Perché stavo soppasendo. Val bene con la testata. Io me lo aspettavo, mi aspettavo pure la seconda testata, ma purtroppo non c'è stato. Che fin quando faccio testa e il soffitto, mi fa sempre bene. Mi devi dire, domenica sera, dopo il gollo di Osimena, che cosa hai fatto? Diciamo che dopo 4-5 birre se ne è caduto il palazzo a casa mia. Niente di grado, sobri. No, si è facciato solo tutto il palazzo, sappiamo fare per testimone. Sa quando segna Napoli cosa succede? Io credo che ora arriviamo primi alla sosta, speriamo. E poi da gennaio vediamo se ripartono alla grande di nuovo. Spalletti dicono sempre la solita storia, uno che parte bene e finisce male. Quest'anno non si parte due volte. Potremmo essere avvantaggiati. La differenza potrebbe essere quella, perché ora con due mesi di sosta, giusto? Sì, più o meno. Rifacendo la preparazione è come se riprendi un altro campionato. Quindi se lui parte alla grande dovrebbe ripartire alla grande pure a gennaio. A luglio e ad agosto tu che pensavi? Io credevo sì che lottavamo per un Europa League, Massimo per il quarto posto. Perché poi non conoscevamo tutti i calciatori, no per una critica per De Laurentiis. Però Kim non si conosceva, Caraschelia, non so se l'ho detto bene, non si conosceva. Era tutto un'incognita. Però la cosa che vedo buona è che sono tutti ragazzi che ora hanno voglia di vincere, perché sono all'inizio della loro carriera. Quindi abbiamo fatto un po' di pulizia con giocatori che già avevano dato e non avevano più quei stimoli che hanno questi qua. Forse erano appagati, avevano qualcosa in meno da un punto di vista proprio caratteriale. Non solo caratteriale ma anche sulle gambe, un'insigne che comunque è sui 30-31 anni. Un Caraschelia giovane a 21 anni corre il doppio di insigne, come Raspatori su Mertens. Tutto il bene che abbiamo su Insigne e Mertens. Ma loro sono giovani, sono freschi e hanno voglia di vincere perché stanno all'inizio della loro carriera. A questo punto la vera sorpresa è Kim, il coreano. Kim è forte, Kim è forte. Fa male la testa per il Napoli, domani il Ranges, forza Napoli che domani vinciamo 4-2. Forza Napoli ragazzi, metti addosso, metti addosso la sciappa di Ranges. Ci stiamo togliendo qualche piccola soddisfazione. Molti sassoline dalle scarpe, quest'anno veramente non ce n'è per nessuno. Parliamo del Napoli, giusto? Stiamo vivendo una favola con i piedi per terra, ma speriamo che la volta buona. Incrociamo le dita. Questa cosa che ogni volta che il Napoli batte qualcuno, in conferenza stampa l'allenatore della squadra avversaria, dice che potevamo vincere noi, il Napoli non ha meritato, addirittura l'allenatore dell'Ajax dopo secolo disse che non era il Napoli che ci aspettavamo. Allora, se stiamo parlando dell'ultima vittoria, come si chiama l'allenatore di quella scuola? Il Giosè, il Giosè. Ah, il Giosè, sì. Diciamo che potevate, zero tiri in porta, no? E poi mi parli che loro potevano fare di più, la squadra avversaria, hanno fatto zero tiri in porta. Che giustificazione metterla su piano difensivo, di ammunizioni, di cosa c'è? Lui non ha detto nulla in conferenza stampa, cioè il Napoli è forte. La verità è che siamo veramente una squadra che ha un gioco, il più bel gioco in Italia e voglio osare, in Europa come Napoli, attualmente, non parliamo, siamo la squadra che fa il più bel gioco. Secondo me quella che merita di stare dove sta. Onestamente tu a luglio e agosto pensavi mai ad una cosa del genere? Prima della campagna acquisti veramente stavo male, non ci credevo. Dopo la campagna acquisti, quando ho visto gli ultimi colpi, proprio alla fine ho detto forse qualcosa si muore, però a dirti che pensavo che stavamo qui, no, ti direi una bugia. Quest'anno il Napoli è fortissimo, stai niente a fa.